Il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari ha visitato oggi la casa circondariale di Arezzo assieme a lui il prefetto Maddalena De Luca, l'onorevole Tiziana Annisini, il presidente del Tribunale di Sorveglianza Marcello Bortolato il provveditore regionale Pierpaolo D'Andrea e il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Spesso si vanno a visitare le grandi realtà. Arezzo è una piccola realtà e le visite sono rare però con la visita del sottosegretario si è voluta attenzionare la realtà ad Arezzo che è una realtà seppur piccola e importante che presenta tante criticità. Tra i temi principali la ristrutturazione dell'edificio ancora non terminata anche e soprattutto per consentire una migliore funzione rieducativa della pena. Ci sono degli impegni da parte del Ministero che riguardano ovviamente dei lavori di ristrutturazione importanti che dovranno essere terminati e credo sia importante anche per la funzione rieducativa della pena investire ancora di più sotto il profilo del trattamento. Lancio un'idea da qui. C'è questa struttura che è alle mie spalle che è una vecchia caserma abbandonata di proprietà del demanio. Io penso che possa essere utile magari un ragionamento che verifichi la disponibilità magari anche del mondo imprenditoriale, locale per un investimento di ristrutturazione di questo edificio che possa permettere di avere più spazio per il trattamento che deve essere ovviamente il nostro primo obiettivo in questo caso. Al termine del sopralluogo Ostellari ha incontrato i rappresentanti del personale della Polizia Penitenziaria che prestano servizio nell'istituto e che hanno lamentato un mancato confronto con il sottosegretario. Questo non mi sembra un rispetto ma non per la mia persona, per l'organizzazione che rappresento. Ovviamente sapendo benissimo che io ho una delega, anzi ho due deleghe particolari all'interno di questo dipartimento, il trattamento dei detenuti e i provveditori. Quindi di questo mi occupo, per il resto ho salutato e ovviamente sono a loro disposizione anche confrontandomi con il sottosegretario mio collega. Abbiamo comunque rassicurato i vertici politici del governo per quanto riguarda la nostra piena disponibilità a collaborare con le altre aree presenti all'interno di un istituto penitenziario.